grazie i prossimi due pezzi sono due pezzi che sono presi dal nostro 7 pollici che vendiamo a quel banchetto lì se qualcuno fosse interessato perché gli piacciono i pezzi o semplicemente per supportarci oppure perché gli facciamo pena guarda è tutto ben accetto il primo pezzo è un pezzo che parla della malattia mentale una cosa della quale se ne sa poco e ci fidiamo di gente forse incompetente si intitola Underworld perché ve lo spiegherà lei dopo grazie a tutti 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 Grazie a tutti